bello a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono angelo e oggi siamo tornati su pactibus 19 oggi ragazzi proverò come diciamo nel primo video farò la 190 food draft challenge quindi dovrò fare 100 di intesa e 90 di rated guardate che non è facile vorrei prendere questo come modulo prendiamo il 4 3 3 ok ok allora abbiamo un ronaldo 98 cantè 96 e busquets 90 e artur 90 c'è busquets e 93 l'ultimo non mi interessa ma noi sapete prendiamo prendiamo ronaldo puntiamo una serie a ok in questo caso quagliarella ci sta ci sta qua mi fa quattro e vabbè che vuoi che faccia quagliarella ok abbiamo due della serie a ma noi andiamo con cansello andiamo di centrocampo e non abbiamo a eccolo uno della serie a team però è della fiorentina ok 77 ce la possiamo fare allora pianic non è male perché mi alza l'intesa però 62 invece poco bassa 62 no vabbè prendiamo sempre pianice della juve ok ok allora allora abbiamo un amsic 88 e un nengolano 87 io prenderei amsic e farei così ok mi fa dieci di intesa dieci di intesa pianici ok 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 ancora della serie a Dolly Woohooo how uffalux Alex sandro perfetto deve per la serie a abbiamo un coulibali che ci dobbiamo andare a prendere con i coulibali ok okomnio velo ogni andato ok continuiamo continuiamo pulse e mi pareva ovvio che non prendiamo me dal sera a ragazzi qui ci tocca il più forte che qua è blind chi prendiamo Quattro di intesa Almeno mi ha già il rated Nessun altro della serie A Perfetto Come il bacio Un déjà vu Un bijou Continuiamo col portiere Abbiamo un portiere della serie A Schifoso Ma vabbè Questa è la nostra squadra titolare Di come si presenta 90-92 Ragazzi già ci siamo vicini Ok Andiamo col portiere sostituto Che schifo Io un portiere ne ho visti migliori 77 Ok lui che è più forte Almeno c'è il rated Ok 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 Abbiamo lui Che è dell'inter Serie A Difensore perfetto E ci manca solamente Un terzino destro Perché alla fine è tutto Ok Varan Toti Ok Ci sta Ci sta Allora qui il più forte Qua in mezzo è Gundogan Continuiamo Continuiamo Con le altre riserve Allora Il più forte è qui 86 Ok Prendiamo lui Che 86 Ce ne erano due 86 Allora abbiamo un attaccante Della serie A Però della serie A Come attaccante Già abbiamo Qua ieri è la 96 Abbiamo Nelle V Ma già abbiamo Cancelo E ci tocca Prendere il più forte Che qua in mezzo è Piontech Ok Ok Sì Sì 92 90 E vabbè Comunque Van Dyke Per me Allora Non è che Ancora Mi piace molto Van Dyke Perché tanto Già abbiamo I difensori buoni Però qui In mezzo Quello più forte È Ibraimovic Il dio Ibra Ok Vediamo Vediamo Quello che ci serve È un RB Che però Non abbiamo Nessuno Come RB E prendiamo lui E lo mettiamo A posto di questo Ok 189 189 Ragazzi 189 Fa pure intesa Con Jesus Navas Però io vorrei Trovare uno Della serie A Come LB Ok Lui come portiere Della Liga Non mi interessa Non mi interessa Un granché Però il più forte Qui è Paiè Che andiamo a prendere Anche se era Quel portiere Anche forte Però Lasciamo perdere Ok Qui Il più forte Lui Dai Ci dobbiamo salvare Con un LB Fabregas Royce Il più forte Qui è Royce Ultimo giocatore Abbiamo Son Mi arrivano Messaggi Mentre Registro Allora Come attaccante Già abbiamo Quagliarella Son Più forte Qui È Son Allora Ragazzi La squadra È finita Ma ancora Non abbiamo finito Perché devo sistemare Tutta la panchina E allora Andiamo Basta Messaggi Ok 96 95 95 95 Poi abbiamo 92 87 Mi sono Scegli pochi 89 In questo draft Quindi 87 86 Un altro 86 Ancora un altro 86 84 77 Ragazzi Ce l'abbiamo Fatta Ragazzi Ce l'abbiamo Fatta 190 Guardate In alto In alto Rating 90 Che Intesa 100 Ragazzi Ce l'abbiamo Fatta Finalmente Oh mio Dio Con una linea Rossa Lì In basso A destra Di DeVridge E Jesus Navas Oh mio Un portiere Di schifo Abbiamo No Vabbè Figata Ok Facciamo Finish Abbiamo Finito 90 Eh 190 Draft Challenge Fatto Ragazzi Ora proviamo A vincere Il draft Lo vorrei Provare A vincere Siamo ancora A 7 minuti 50 Ok Allora 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 Ok Siamo Siamo lì In basso A sinistra Siamo contro Una squadra Che non Conosco Start Dai ragazzi Dai Ronaldo Al 28esimo Buono Buono Doppietta Di Ronaldo Ho fatto bene A prendere Il quagliarella E pianici Vanno a concludere La partita 4 a 0 Neanche ci hanno provato A tirare Allora Siamo ai quarti Siamo contro Il Monaco Abbiamo Come squadre Che mi possono Che mi possono Far paura Un poco È il Torino La Roma E il Manchester Ma forse Potremmo arrivare In finale Contro il Manchester Non ne ho idea E qua Iarella Fa subito Un gol Al quarto minuto Con Pjanic Fa il 2 A 1 Perché fa il cao 4 a 1 In due partite Quattro gol In due partite Cioè in due partite Abbiamo fatto 8 gol Perciò Ok Siamo contro Questa squadra Che neanche questa Conosco Pjanic Rosso Ma Ronaldo Segno un gol Quagliarella Doppietta Mamma mia Ho fatto bene A prenderlo Ok Guarda Quanti coin Lo sapevo Ragazzi Lo sapevo Che andavo In finale Contro il Manchester Vediamo Il 190 foot Draft Challenge Ce la farà A vincere il draft Koulibaly Bjanic Quagliarella E boom E vinciamo il draft Ragazzi Vinciamo il draft Finalmente Si vince il draft Con il 190 foot Draft Challenge E abbiamo Un pacchetto Più 81 Giocatore Più 81 Elite plus Pack Pack E special Pack E special pack Ok Ok Usciamo Questo è il 190 foot Draft challenge Che ci ha fatto vincere Il draft Ragazzi Per la prima volta Che vinco il draft Oh mio dio Ok andiamo qui Ok andiamo qui Ah e qua abbiamo dei pacchetti Abbiamo Uno più 81 player Pack Uno elite plus pack E uno special pack Direi di iniziare prima con un 81 players pack Dai 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 Toz Raga un toz 86 Eldon